La scuola vive un momento senz'altro difficile. Un po' di ansie per queste misure, insomma, anti-Covid. Paura sì, come tutti, ma insomma andremo. Siamo felicissimi che si rientri e tranquilli. Distanze, scaglionati, mascherina, abbiamo tutto il kit. Li manderà sempre i suoi figli a scuola. Ma certo, al momento sì, bisogna ripartire tutti insieme e la scuola è fondamentale. Molto agitati, oggi poi è il suo primo giorno di scuola, della prima elementare. Doppiamente importante. Sì, molto paura, però bambini è molto emozionati. La temperatura a casa è giusta? Sì, 36,4. È giusto misurare a casa e poi magari fare dei controlli a campione anche a scuola. Giusto controllare a casa, ogni genitore deve assumersi le responsabilità. Perfetta, oggi non avevamo neanche 36. Cosa dovrebbe fare, secondo lei, la scuola per la sicurezza di suo figlio? Penso quello di applicare le norme che sono state date, quindi insomma cercare di mantenere l'uso della mascherina, il distanziamento. Mascherine di riserva, doppio astuccio, insomma abbiamo osservato tutte le regole. Vedo che ha tutte le precauzioni. Sì, certo. C'è abbastanza personale? No, il personale ancora manca. Le risorse forse della scuola sono state messe in campo, tutte quelle che potevano. Com'è stato l'ingresso? L'ingresso, i ragazzi hanno collaborato molto bene. La voglia di tornare a scuola era tanta, di rivederli e di ritrovarli, insomma. I bambini entrano, si dispongono a secondo della classe. Da questa parte ci sta la scuola primaria, da quest'altra invece c'è la scuola media. Ogni classe ha la sua sigla segnata per terra. I puntini indicano la disposizione della distanza di un metro. Dentro le aule ci sta il dispense per igienizzare le mani appena si entra. Abbiamo individuato le due aule cosiddette Covid, dove eventualmente se qualcuno sta male viene portato il ragazzo alla ragazza in attesa che arrivi il genitore. Il rischio zero non esiste, quindi anche noi abbiamo le nostre ansie. Però insomma abbiamo fatto di tutto per poter iniziare e continuare la scuola.